Sono l'autore delle strade dell'apartheid, un libro edito da casa editrice Mondo Nuovo, uscito nelle librerie il 12 marzo del 2020 in piena pandemia. Non è un libro solamente fatto di parole, è fondamentalmente una promessa, una promessa fatta alle persone che ho conosciuto nei campi profughi palestinesi, in Irlanda del Nord, a Belfast e a Derri e nei campi profughi del popolo saraui in Algeria. È un tentativo di appunto continuare a raccontare queste storie perché non vengono dimenticate. Ci vediamo in qualche presentazione. Grazie.